Io ho dei sentimenti e questi sono forti, specialmente verso di te e tu non... Ai 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 detective, te l'ha mai detto nessuno che quando sei gelosa sei ancora più bella? Non sono gelosa, sono... Arrabbiata? Sì, lo so. Mi sono spaventata Lucifer, credevo che tu... che te ne fossi andato, di nuovo, e detesto stare male per te. Perché? Perché fa male Lucifer, è come se avessi una voragine nello stomaco, il petto poi, che te lo dico a fare? Detective Klaw Jane Decker, ti garantisco che non cambierà nulla, che sarò lo stesso diavolo di adesso. Sarà tutto identico ad adesso, solo che ho bisogno di chiedertelo, mi vuoi sposare?